Presentato qui alla BIT, la terza edizione di Marina Militare Nastro Rosa Tour, un grande progetto che mette insieme tanti attori. Noi chiaramente partiamo dalla Marina Militare e ascoltiamo l'intervento dell'ammiraglio Antonello De Renzi Sonnino, che è capo della comunicazione della Marina Militare italiana. Sì, buon pomeriggio a tutti. La Marina è presente in questo bellissimo evento dall'inizio, dal 2021, crede fortemente nei valori che questo evento trasmette, l'amore per il mare, attraverso l'attività sportiva. Peraltro, sapete, la vela per noi fa parte del nostro DNA. Noi la vela la conosciamo dall'inizio, appena entrati da giovanissimi, e la portiamo avanti fino a grandi. Quindi, per dare un esempio, i nostri futuri comandanti hanno primo impatto con il mare, con la navigazione, a bordo dell'amico Vespucci, quindi navigando a vela. E questo per noi è fondamentale. Bene, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, perché la città di Taranto è tra le tappe di questa incredibile regata. Sì, entriamo per la prima volta in un circuito che ci onora. Taranto, come sapete, sta cambiando il suo modello di sviluppo, sta investendo molto in promozione. È la città dei giochi del Mediterraneo. Insomma, sulla risorsa mare, sullo sport, vuole costruirsi un'immagine nuova e tante opportunità altre dalla grande industria. Sapete che c'è un percorso in questo senso. E siamo molto contenti, insomma, del nastro rosa, perché insieme agli altri stakeholder istituzionali c'è soprattutto questo legame forte con la Marina Militare, che per noi è identitario. Grazie, sindaco. Andiamo dall'ENIT. Il consigliere dell'ENIT, il dottor Papalardo. Allora, consigliere, l'ammiraglio nel suo intervento ha parlato del secolo blu, questo mare che va sfruttato davvero a 360 gradi. Sicuramente, tant'è vero che da subito, dalla prima edizione, l'ENIT, l'agenzia nazionale del turismo, ha deciso di accompagnare questa bellissima manifestazione per una ragione molto semplice. Questa regata non parla solo di mare, non parla solo di barche, parla anche di territorio, parla della nostra splendida Italia. Noi usufruiamo di questi eventi e usufruiamo il nastro rosa per raccontare, per illustrare, per far vedere al mondo intero che cosa l'Italia possiede, che è qualcosa di unico che gli altri non possono vantare di avere.